Ehi, ciao, sono Poldo, sì, sono un metallaro, però questa base era l'unico modo che avevo per raccontarvi questa storia che ha della strurdo. Preparatevi, amici. La troia mi ha bloccato, ma non so che cosa ha fatto. Gli ho chiesto, dai, ti prego, dammi una foto dei piedi. Non la metto in rete, non ti preoccupare. No, ma mica mi ci voglio masturbare. E dai, ti prego, per favore, facciamo mezza foto. Un dito solo, un dito e basta, ti prego. Vai, Samir, ma guarda che in amore non ci possa aver fortuna. L'altra volta mi penavo per trovarne almeno una. A un certo punto ho trovato sto trampione ben tornito. Gli è bastato un messaggio ed ha subito capito. Ormai lo sanno tutti, non ti devi preoccupare. La figa piace a molti, ma il cazzo piace a tutti. Quindi, amico mio, adesso basta pensare e inizio a cercare un bel cazzo da succhiare. Ok, ora dirò una cosa scioccante. Siete pronti? La sto per dire, la sto per dire, la dico. Bip, bau, da pazzo, e spara. Bip, bau, da pazzo, e spara. Statoia mi ha bloccato ma non so che cosa ha fatto Scusa mamma, tranquilla ora finisco Ciao faccio ti voglio bene Grazie a tutti Grazie a tutti